Amici di Fashion One ci troviamo a Nociglia alla caffetteria Pitardi e questa sera in corso una grandissima serata, il Party Corona, andiamo un po' a vedere cosa sta succedendo Grande divertimento questa sera alla caffetteria Pitardi, i ragazzi si stanno divertendo a crepa pelle Tanta musica, tanto divertimento e inoltre questa sera Corona Extra offre tantissimi grandi gadget La caffetteria Pitardi non solo è un punto di ritrovo per tantissimi giovani ma è anche una pasticceria davvero rinomata E vi presento Alessandro il proprietario della caffetteria Pitardi, buonasera Buonasera Alessandro complimenti per questo locale perché è un posto davvero molto vivace Sì è vivace perché preparo delle serate in cui riesco a portare l'atmosfera in questo piccolo angolo di Nociglia, abbiamo fatto delle preserate in living e è andato alla grande Questa sera è in corso una grandissima serata, il Party Corona Sì abbiamo scelto un punto di riferimento Corona perché ci hanno dato la possibilità di lavorare insieme a loro Alessandro quali sono i prossimi appuntamenti della caffetteria Pitardi? Stiamo preparando delle sorprese, delle sorprese bomba come abbiamo fatto fino adesso e naturalmente chiamiamo voi come Passion One e in collaborazione con voi e speriamo che riusciamo a fare sempre e più forza negli eventi Alessandro prima di salutare tutti gli amici di Fashion One ti volevo fare i complimenti per la pasticceria perché è davvero squisitissima Ho mangiato un pasticciotto, una delizia, crema e Nutella Sì crema e Nutella e poi abbiamo fatto il pasticciotto bomba che è il nostro pasticciotto nocigliese in cui faccio due tipi di crema crema pasticcera e in più faccio un tipo di crema alle noci Alessandro invitiamo tutti gli amici di Fashion One a venire a leccarsi i baffi con questi pasticciotti e salutiamoli Ciao a tutti di Fashion One, un bocca al lupo di tutto e una buona fortuna Il divertimento è assicurato qui alla caffetteria Pitardi I ragazzi si stanno scatenando davvero tantissimo Ragazzi vi stanno scatenando questa sera? Sì tantissimo Come la caffetteria Pitardi La migliore che esista Facciamo un saluto a tutti gli amici di Fashion One Ciao a tutti Ciao Fashion One La caffetteria Pitardi vi aspetta qui a Nocina Mi raccomando non mancate perché si prevede una stagione ricca di appuntamenti Il Cause'Una La legge di Usi La legge di Amazon Si stanno scatenando una bianca Il verb mi מא�cita La legge di Usi Il verbale è un bel La legge di Usi La legge di Usi Il verbale è un bel La legge di Usi Il verbale è un'altra Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.